L'aeroporto di Firenze, o meglio il suo ampliamento, continua a dividere sia politici che tecnici, oltre che naturalmente i cittadini. Dopo il parere dei tecnici della regione toscana che in pratica chiedevano alcuni chiarimenti sullo spostamento della pista, ieri la giunta di Enrico Rossi ha espresso parere favorevole anche sull'allungamento a 2.400 metri, ovvero la misura che Enac aveva chiesto fin dall'inizio e su cui il governatore aveva alzato le barricate. Un via libera politico che però ha una condizione, la realizzazione delle opere di compensazione della Piana e un osservatorio ambientale che verifichi gli impatti. La giunta considera inoltre essenziale il potenziamento e la valorizzazione del parco della Piana. Il parere formulato dal nucleo regionale di via adesso sarà inviato al Ministero dell'Ambiente ed esaminato all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto. Che la cosa non si è piaciuta alle opposizioni e a parte della popolazione lo si era già capito da stamani presto quando di fronte agli uffici del Consiglio regionale in via di Novoli era apparso questo cartello. Un caso, forse o forse no, che proprio stamani era in programma anche una conferenza stampa di due parlamentari del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio, che insieme al consigliere regionale Andrea Quartini hanno presentato l'esposto depositato alla Corte dei Conti proprio contro l'aeroporto. Oggi qui non siamo solo a denunciare una violazione delle norme di legge perché anche la Regione di Rossi, che fa l'antirenzi, poi alla fine ieri ha approvato il piano contro i pareri tecnici dell'amministrazione pubblica. Non solo siamo qui a denunciare le questioni tecniche e legislative, ma siamo qui a denunciare ancora una volta un conflitto di interessi. Si utilizzano soldi pubblici per ripagare i finanziatori delle campagne elettorali quando con 150 milioni di euro noi compriamo oltre 3.500 auto nuove alle forze dell'ordine, in un momento in cui la sicurezza dovrebbe essere la priorità, per non parlare del problema culturale e artistico. All'UNESCO gliel'hanno detto che i voli sorvoleranno forse il centro storico di Firenze, già l'UNESCO ha storto il naso per tutte le opere, la TAV e tutte le altre cose che sono state fatte qui. Per Di Maio, dunque, la soluzione sarebbe un patto integrato tra regioni ed eventualmente il potenziamento di servizi alternativi per collegare alla città gli aeroporti vicini. Noi dobbiamo ragionare come macro-regioni quando facciamo i sistemi integrati. Allora, Firenze ha portato già due aeroporti alla TAV, alle infrastrutture che consentono ai turisti di arrivare a Firenze. Quindi delle navette ad hoc. Questa è speculazione. Andate a vedere in questo momento quanti aeroporti sono dei deserti solo perché li si è fatti con un'ottica localistica, con l'ottica dei comuni. L'epoca dei comuni è finita da centenni e centenni. Tuttavia, nell'ultimo anno, lo scalo fiorentino ha registrato cifre difficili da non tenere in considerazione anche in vista del suo sviluppo. Nell'anno, per l'Amerigo Vespucci, l'aumento complessivo di mole viaggiatore è stato del 13,6%, sia con passeggeri italiani che esteri. Un trend ormai registrato da tempo che potrebbe portare, con l'aumento dei voli previsti per la nuova pista, percentuali ancora maggiori. Il capoluogo toscano può dire addio alla fiorentinità di Mucchi. La storica centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno andrà infatti incontro ad una fusione, quella con la centrale di Torino, per dare vita a una centrale del latte d'Italia che sarà il terzo polo caseare del paese. La Mucchi, comunque, resterà come marchio dipendente da centrale del latte d'Italia, ma la sede operativa sarà ancora a Firenze. L'azienda, così, potrà avvantare ben 5 stabilimenti, 430 dipendenti e un fatturato importante di circa 200 milioni di euro. È previsto che il progetto di fusione sia approvato dai rispettivi consigli di amministrazione entro il 25 gennaio 2016. L'operazione consentirà a Mucchi, che conserverà comunque la base in Toscana, di tutelare il sito produttivo e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, come spiega la stessa azienda in un comunicato. Al telefono, Lorenzo Marchionni, presidente di Mucchi Firenze, ha espresso soddisfazione per l'accordo, non dimenticando, comunque, che la strada è ancora lunga. Siamo soddisfatti perché abbiamo posto le basi per la fusione delle proprie. Il percorso è ancora un percorso lungo. Il primo passo è compiuto con reciproca soddisfazione. Poi, naturalmente, saranno i soci a dover dire l'ultima parola. Il 5 dicembre alle 6.30, dopo quasi 20 anni dalla presentazione del primo progetto, aprirà finalmente il primo tratto della variante di Valico. Sei chilometri in tutto tra Barberino del Mugello e Aglio, in direzione nord. Tre corsie, nessuna galleria. Si tratta di un antipasto in previsione dell'apertura di tutto il tracciato di 59 chilometri, che dovrebbe essere inaugurato il 22 dicembre prossimo. Entro l'anno, dunque, così come promesso dal premier Matteo Renzi, in occasione dell'abbattimento dell'ultimo diaframma di una delle 17 gallerie del percorso. Un'inaugurazione, però, che non porrà fine alle polemiche, prime tra tutte quelle dei sindacati, che sono in agitazione dal 30 di novembre. L'azienda ha infatti deciso che lungo la variante del tracciato lavoreranno 19 dipendenti, visto che i due caselli saranno interamente automatizzati, ma i sindacati ne avevano chiesti 117. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS